Buongiorno a tutti, eccomi con voi, meteoscienza c'è tranquilli a raccontare del caldo ma anche dei nubi fragili perché per adesso si parla di tanti temporali, ma eccola la carta che ci mostra l'arrivo del caldo e che durerà qualche giorno, 4-5 giorni almeno, ma intanto questa è la prima carta che vi mostro e sono i temporali previsti per domani al nord, anche forti, guardate che nuclei un po' su vaste aree della pianura padana, in particolare quelle al nord del Po ma anche e non solo, anche a sud quindi domani iniziamo un maltempo al nord, ancora fresco nelle altre regioni e poi guardate, ho segnalato l'Italia e guardate come l'anticiclone africano avanza a causa dell'affondo a ovest di quella depressione che si vede col giallino, guardate i colori violetto, chiamiamoli fucsi accesi vedete come tendono a puntare verso l'Italia e poi però gradualmente, questo entro metà mese vedete come vengono sostituiti da colori più tenui e il caldo in parte ricacciato più verso sud sebbene potrebbe ancora a puntate farsi rivedere, questo perché come vi ho detto, ecco la carta delle anomalie aria fredda in blu va verso ovest, a ovest della Spagna e questo causa una risalita verso nord, vedete che le anomalie sono proprio centrate su una parte del Mediterraneo non è che l'Africa sia più calda del solito, è semplicemente che ci invia il suo calore ma ecco vedete come si alterano poi da metà mese impulsi più freschi che dovrebbero riportare almeno in parte le temperature al loro posto eccola, innanzitutto ecco qua, l'onda calda sarà molto piattonata al nord, guardate Milano pochi giorni sopra media, nemmeno tanto e poi si torna in media, quindi Milano in particolare il nord, parte del nord non sentirà più di tanto l'onda calda e questo è Firenze, sopra media abbastanza continuo ma molto lieve nella seconda parte dopo il picco dei prossimi giorni, del weekend e dei primi giorni della prossima settimana ma veniamo a altre località, Roma sopra media diffuso e anche piuttosto marcato sebbene a ondate ma che dovrebbe durare molto di più e infine Reggio Calabria, guardate la differenza tra i valori della media e quelli previsti dal modello in questo caso l'americano ma l'europeo è uguale, sopra media marcato e continuato e lo stesso è Cagliari, in un primo tempo proprio la Sardegna meridionale sarà l'epicentro del caldo i valori potrebbero superare i 40 gradi nelle aree interne dell'isola e anche delle isole maggiori anzi anche della Sicilia e allora veniamo a fare il punto, ecco la cartina area più fredda, innanzitutto temporale ancora domani, ancora fino a giovedì, venerdì le temperature saranno nella norma ma con nubi fragili possibili al nord questo perché ancora non c'è la rimonta africana e prevale l'influsso instabile dall'Atlantico poi, e questa cartina è riferita proprio a quel periodo, poi arriverà l'onda calda ma il nord resterà ai margini spesso di questa ondata e sebbene a intermittenza, dopo una prima fase calda i nubi fragili temporali forti torneranno nel nord Italia, questo perché andranno a contrasto con un'aria molto calda che risale a sud, diciamo, nelle regioni centro-meridionali quest'ultima, le regioni centro-meridionali, sì, potranno vedere valori che potranno superare anche i 40 gradi segnatamente Sardegna, aria interna, Sicilia, aria interna, potranno essere sfiorati anche tra Calabria, Puglia, Basilicata, in parte Campania, no, dopo, diciamo, per le regioni centrali Roma e Firenze, ma anche Bologna, le temperature potranno arrivare a 37-38 gradi questo sì, l'onda sarà abbastanza forte, ripeto, durerà gran parte della prossima settimana ma sarà soprattutto al centro-sud, ma poi si intravede l'arrivo di aria più fresca entro metà mese, tutto questo però iniziale da nord ancora e poi in graduale estensione al centro-sud più si scenderà di latitudine, più tarda sarà l'uscita da questa onda calda aggiorneremo sempre, rimanete sintonizzati su Meteoscienza, un abbraccio a tutti, ciao ciao